Il periodo abbastanza corto che io ho vissuto come un Ferragna dava l'impressione di una gestione familiare, perché una cosa che mi è rimasta impressa è che a San Luigi, che era l'onomastico degli incineschiati, a tutti i dipendenti veniva distribuito un dolcino, un panettoncino per ricordare questo onomastico. Il passaggio a 3M è stato un po' fatto in pompa magna, nel senso che a tutti i dipendenti è stato distribuito un pacco regalo con tutti i prodotti che la 3M produceva, quindi c'era il nastrino colorato, il nastrino adesivo e tutto quello che era produzione 3M. L'organizzazione secondo me è cambiata, nel senso che 3M è colosso a livello mondiale, quindi ci sono stati i primi scambi tra Ferragna e St. Paul dove c'erano altri stabilimenti, persone che si spostavano, persone che arrivavano dall'America, portavano le loro esperienze, c'è stato uno scambio abbastanza proficcio di queste cose. Poi i primi anni il marchio Ferragna tremme, fatto già con la previsione di scorporarlo poi in seguito per passare poi definitivamente a solo 3M. L'infermeria era praticamente completa di tutto, perché c'erano a tempo pieno praticamente due medici, gli infermieri, io mi ricordo che avevo avuto dei problemi di salute e dovevo fare delle punture e ne approfittavo perché gli infermieri nelle ore determinate facevano anche servizio di iniezione. Addirittura se uno aveva bisogno di lastre radiografiche le faceva direttamente. Diciamo che invece negli ultimi anni è stato ancora di più ampiato perché addirittura all'interno dello stabilimento facevano gli esami del sangue, perché per normativa chi era soggetto a lavorazioni pericolose o nocive doveva periodicamente essere controllato dal punto di vista. Ad esempio io che quando facevo lo strumentista elettronico mi occupavo anche di macchine, di apparecchiature che avevano una fonte radiattiva perché misuravano lo spessore della pellicola e portavamo noi la piastrina dosimetrica per vedere se assorbivamo delle radiazioni. Quindi la normativa prevedeva che ogni 6 mesi facessimo sia la visita medica che gli esami del sangue. La maggior parte di queste apparecchiature erano termoregolatori, regolatori di temperatura perché i prodotti che Trem usava per la fabbricazione della pellicola erano diversi. Venivano a seconda di quale tipo di prodotto chimico veniva usato, veniva rifuso se era già stato fabbricato, quindi la temperatura era molto importante. Prima di andare a finire nella caldaia di fabbricazione i vari prodotti venivano scalati a temperature diverse. Poi la temperatura era una cosa molto importante ma come era importante anche la regolazione della temperatura di umidità negli ambienti di lavoro. Andavamo parecchio nei laboratori, i laboratori usano un sacco di strumenti dal piacametro a tutto quello che poi ha il conduttivimetro e tutto quello che viene di seguito ed era compito nostro anche la manutenzione di questa strumentazione. Andavamo poi nel più complicato che addirittura era il misuratore del contenuto di argento nella pellicola, si chiamava cristalloflex, era uno strumento a raggi X che andava a esplorare un campione e con un calcolo matematico che si faceva alla macchina ci dava la quantità di contenuto di argento. Ero penso una delle poche persone che aveva esperienza sia in campo meccanico di precisione che in campo elettrico ed elettronico. L'azienda ha fatto presto a prelevarmi perché negli anni 85-86 era nata la necessità della certificazione dei sistemi di qualità aziendali secondo una norma che era la norma ISO 9002 e Ferragna, anzi 3M, aveva necessità di spostare i propri prodotti sul mercato europeo e quindi aveva l'esigenza di avere il sistema di qualità certificato. 3M ha fatto una scelta diciamo abbastanza anche costosa perché questa calibrazione si può poteva anche fare rivolgendosi agli istituti all'esterno dello stabilimento, i famosi centri SIT, Servizio Italiano Taratura, però la scelta che è stata fatta è quella di costruire all'interno dello stabilimento un laboratorio metodologico. Andavamo in giro per lo stabilimento dove la strumentazione non era trasportabile, però la maggior parte veniva portata in laboratorio. Così a grandi linee noi abbiamo dovuto fare un inventario di tutta la strumentazione presente in fabbrica, suddividerla in gruppi in base alle esigenze che aveva chi la usava, quindi il gruppo erano due, il due e il tre. Il gruppo due era la calibrazione e la carico nostro del laboratorio, il gruppo tre era carico dell'utente, però il nostro laboratorio forniva la strumentazione di riferimento per farsi questa taratura. Noi gestivamo all'anno qualcosa come 1500 strumenti, quindi abbiamo dovuto provvedere a fare l'inventario con il database, abbiamo diviso lo stabilimento per aree. In queste aree è stato nominato un responsabile di calibrazione ed era il nostro interlocutore diretto. Noi la scadenza di ogni mese stampavamo la lista degli strumenti in scadenza di quel mese dopo, lo mandavamo al responsabile ed era compito suo, a seconda del programma che noi avevamo stabilito, farci avere in laboratorio della strumentazione. Certo, noi ci sentivamo anche un pochino privilegiati, sa quando? Quando andavamo nell'altra unità produttiva della 3M, perché? A parte che era un'unità produttiva molto più piccola di 3M, quindi nella maggior parte dei casi non esisteva l'officina di manutenzione, non esisteva il gruppo di strumentazione. Noi abbiamo trovato molto spesso delle persone che facevano un certo tipo di lavoro su una certa parecchiatura senza conoscere quali erano i principi generali di questa macchina, gli avevano insegnato che bisognava schiacciare un pulsante e fare un'altra cosa, in quei casi lì era importante ed era anche abbastanza gratificante il fatto di avere più conoscenze di loro e poter andare a dargli delle spiegazioni, dei concetti, non so se ho risposto giusto a quello che lei voleva sapere. Io ci passo ogni tanto davanti a Ferraglia, la cosa che mi viene in mente, lo dico sinceramente, è il mio laboratorio, io lo chiamo mio laboratorio perché ci ho vissuto 10 anni e mi ha dato tante soddisfazioni. Il fatto perché sia successo il tutto, secondo me è anche vero, il mercato della pellicola era già un mercato saturo e quindi un mercato in decadenza fino a quando finisce tutto, l'avvento del digitale è quello secondo me che ha dato il colpo di grazia a tutto. Quello che mi chiedo è come le costruzioni che c'erano, con le apparecchiature che c'erano presenti all'interno, buttare via tutto e non farci più niente secondo me è stata proprio una pugnalata, anche perché chi ci ha vissuto 36 anni come ci ho vissuto io, perché con un po' di buona volontà secondo me si poteva recuperare certe cose, certe tecnologie e certe strutture.